Prima di venire? Un pochino sì. Di solito cosa usa per il viso? Oltre il fondotinta logicamente. No, un po' della crema. Ha una sua linea preferita? Cambia spesso? No, cambio. Ma devo cambiare. Bravissima, gran buona abitudine. Perché questo vuol dire che non lascia che la sua pelle si abitui a ricevere sempre... Sì, ultimamente stavo prendendo un all'acqua, un antirughe all'acqua multivitaminica, ACE. Grazie.